Non so cosa sia accaduto in questa regione, ma mi ritrovo indagata per strani reati, come quello della corruzione della linea editoriale, e mi ritrovo accusata di fatti mai avvenuti, come quello della cena a fini estorsì. Una cena a cui non ho mai preso parte, e tantomeno ne ha preso parte il magistrato Fabio Papa, semplicemente perché l'ha inventata Paolo Di Laura Frattura. Tutto condito dalle carte giudiziarie del cosiddetto sistema Iorio, carte che ho denunciato dimostrando le manipolazioni, soprattutto relative alle intercettazioni telefoniche, la calunnia, gli abusi e i falsi. Grazie alla questura di Campobasso, dei tempi, non quella attuale, quella diretta dal questore Giancarlo Pozzo, dal vice questore Giuliana Frattura, sorella del governatore, e dal capo della squadra mobile, sempre dei tempi, Giuseppe Annicchiarico, improvvisamente mi si accusa di reati nuovi e fatti inesistenti, ma guarda caso, su queste stesse persone oggi pesano indagini giudiziarie gravissime e per reati molto simili, forse fin troppo simili a quelli che ho denunciato io. Insomma, giusto il tempo di litigare con Frattura negli anni in cui sua sorella aveva un ruolo apicale nella polizia giudiziaria. Una coincidenza spettacolare. Ma veniamo ai fatti. Sono stata intercettata come parte offesa di un presunto ricatto, sostituendo il nome di Fabio Papa con quello di Michele Iorio. E questo è un fatto. Per ascoltare il magistrato ed evitare che le indagini finissero per competenza a Bari, un'intercettazione in cui si parla della possibilità che Ignazio Annunziata divulghi la mia storia privata con Michele Iorio. Stesso giorno, stessa ora stesso interlocutore. Magica e formidabile manipolazione. Perché se era Fabio Papa le indagini sarebbero state trasferite a Bari. Parliamo ancora del 1414. Conversazioni normalissime, anche le più banali, vengono accompagnate da commenti atroci fino a definirmi pericoloso criminale fino a chiedere i miei arresti. Su quali basi venivano chiesti questi arresti? Sulla base di un blocco di conversazioni telefoniche registrate dal cellulare del presidente della regione Michele Iorio e sulle quali, su questo gruppo di intercettazioni, il GIP Maria Rosaria Rinaldi aveva rigettato la richiesta di intercettare il mio telefono scrivendo nero su bianco che non commettevo alcun reato. Bene, il capo della squadra mobile di allora di Campobasso, Giuseppe Annicchiarico, ha formulato per due volte la richiesta di arresti nei miei confronti usando come materiale probante le stesse identiche conversazioni bocciate dal GIP Maria Rosaria Rinaldi perché definite da lei conversazioni normalissime. Anche questo è un fatto. E guarda caso, Giuseppe Annicchiarico, oggi trasferito, è stato rinviato a giudizio a Taranto con un'accusa gravissima, quella di aver fatto arrestare ingiustamente due persone. Un'imputazione, pensate, coatta del GIP di Taranto. Anche questo è un fatto. Contemporaneamente Giancarlo Pozzo e Giuliana Frattura sono stati raggiunti da una richiesta di rinvio a giudizio per intromissioni in debite in attività giudiziarie. Un'altra formidabile coincidenza. Ho dunque denunciato la polizia giudiziaria per manipolazione delle intercettazioni telefoniche, calunnia aggravata, falso ideologico, abuso d'ufficio e anche altro. I fascicoli sono stati aperti. E attendo fiduciosa l'esito di queste indagini parallele. Ma questa premessa è importante perché è la base della violenta rappresaglia di Paolo, di Laura Frattura, la procura di Bari contro me e contro Fabio Papa. Il presidente Bugiardo ha atteso di venire in possesso di quelle carte per condirle di ulteriori farneticazioni e presentare la sua denuncia su una cena e su un'estorsione inesistenti mai avvenute ma presentandosi con il biglietto da visita del sistema Iorio. Cioè presentandosi a Bari con le indagini manipolate portate avanti dal magico team della ex questura di Campobasso dove c'era sua sorella. Magnifico. E veniamo alla cena. Con 14 mesi di ritardo rispetto ai giorni in cui i reati si sarebbero consumati. Senza indicare la data ma solo il periodo di riferimento cioè ottobre 2013 Frattura si precipita a Bari e si ricorda di una cena. La memoria corta è rivitalizzata dalle carte del sistema Iorio che usa e saccheggia a piacimento è proprio nelle parti manipolate e denunciate. Sostiene Frattura nella sua denuncia schizofrenica e lacunosa. Lacunosa a partire dalla data che l'avrei invitato a una cena per farlo ricattare dal povero Fabio Papa in persona. In un primo momento la cena è a casa mia a Isernia e i commensali sono tanti. In un secondo momento si corregge e smentisce se stesso quando viene interrogato a Bari per chiarimenti. La cena è a casa del magistrato e il commensale testimone è solo uno. Il suo amico avvocato e sodale Salvatore di Pardo. Perché? No mi dovete ascoltare su questo passaggio. Perché Fabio Papa avrebbe dovuto esporsi a un rischio del genere oltretutto in un periodo in cui gli avevano assegnato la scorta ottobre 2013. Il perché non si comprende in nessun modo ed è un insulto alla sua e alla nostra intelligenza. Parliamoci chiaro. Molto più semplice sarebbe stato se davvero avessi voluto ricattare Paolo di Laura Frattura, avvicinarlo e sussurrargli in un orecchio da sola faccia a faccia e senza pericoli né tantomeno testimoni la possibilità di condizionare il magistrato Fabio Papa contro di lui. Invece è stato Fabio Papa in persona. Perché? Perché l'obiettivo era il trasferimento del PM che indagava su di lui. Fatto sta che ho provveduto a denunciare Frattura per Calunnia e per tutti gli altri eventuali reati non appena ho avuto notizia di questa sua denuncia. Altrettanto ha fatto ovviamente Fabio Papa. Vedete? I giudici hanno un modo incontestabile di accertare la verità ed è questo quanto ho chiesto nella memoria difensiva presentata a Bari. Si accerti, ho chiesto, con apposita indagine tecnica. Se risulti che i cellulari dei quattro presunti commensali, io, Papa, Frattura e Dipardo, siano mai stati agganciati insieme nello stesso posto, nei luoghi e nelle ore riferite del mese di ottobre 2013. E abbiamo chiesto questa verifica per tutti i giorni del mese di ottobre 2013, visto che lo smemorato non ha saputo indicare una data. Di queste perizie tecniche ancora non so il risultato. E veniamo al nodo centrale dei reati che ci contestano, badate bene, a seguito della denuncia di Frattura. Sono reati che ci contestano sulla parola di Frattura. La Biocom Sulla Biocom gira una bufala, un mantra che si rinnova di volta in volta con tutti gli articoli di tutti voi giornalisti. Ovviamente un mantra sollecitato e tramandato da Frattura in persona. Eppure le carte ci sono e parlano chiaro. Fabio Papa non ha mai né aperto né riaperto la Biocom. Semplicemente perché la Biocom non era mai stata archiviata. L'indagine Biocom l'ha aperta il procuratore capo della procura di Campobasso, Armando D'Alterio, per poi consegnarla al magistrato Fabio Papa con una procedura di assegnazione automatica, automatica, cioè secondo la normale procedura del Tribunale di Campobasso. Questa indagine, istruita da D'Alterio nelle sue fasi iniziali, conteneva la proposta di archiviazione inoltrata a D'Alterio dalla squadra mobile di Campobasso, la firma è di Giuseppe Annicchiarico. Ma D'Alterio non l'aveva affatto archiviata ed è finita a Fabio Papa per assegnazione automatica. Queste sono le fotocopie, ve le potete prendere. Il 22 maggio, è scritto qui, del 2013, ascoltatemi bene, D'Alterio in persona affida le indagini. A chi? Alla Digos. D'Alterio affida le indagini alla Digos. Il 10 giugno 2013, cioè dopo soli 10 giorni lavorativi, a D'Alterio arriva la risposta. E non è della Digos, è della squadra mobile, cioè la squadra mobile, quella del magico team, sia chiaro, non quella attuale. Si appropria delle indagini affidate alla Digos da D'Alterio e risponde in fretta e furia con una proposta di archiviazione. Non c'è alcun reato. Poi vi ho detto non l'ha archiviata D'Alterio, ma questa è la proposta fatta D'Alterio. Vi invito a fare una riflessione molto semplice. Seppure fosse vero che quella indagine andava archiviata, cosa che poi è avvenuta in questi giorni, ebbene la Procura di Campobasso ha impiegato due anni per giungere a una conclusione. Come è possibile che la squadra mobile diretta da Giancarlo Pozzo e Giuliana Frattura l'avesse istruita e conclusa in 10 giorni? E arriviamo al turno di Fabio Papa, quando gli arriva questo fascicolo per assegnazione automatica. Ebbene succede la stessa e identica cosa. Il magistrato assegna le indagini di nuovo alla Digos, così come aveva fatto D'Alterio, e gli risponde di nuovo la squadra mobile. E mentre vi racconto questi fatti, scolpiti indelebilmente nelle carte giudiziarie che anche voi avete a disposizione, è il 14-14-2012 al capitolo dell'archiviazione di Giancarlo Pozzo. Mentre vi racconto questi fatti, scolpiti, lo ripeto, indelebilmente nelle carte giudiziarie, sento dire da frattura e sento ripetere a Pappagallo da tutti che Fabio Papa e Manuela Petescia volevano deviare le indagini dalla squadra mobile alla Digos. Ma qualcuno di voi si rende conto dell'immensità di frottole che vanno in giro? Ripeto, le carte sono a vostra disposizione e me ne potete chiedere quante ne volete. Per me è più semplice inviarvele in posta elettronica. Le domande, allora, sono due. La prima, perché chiedere l'archiviazione in tempi così stretti come fosse un evidente tentativo di affossare l'indagine Biocom sul nascere? E soprattutto, chi e perché deviava queste deleghe? E allora veniamo alla cosiddetta parte lesa, il questore Giancarlo Pozzo. Una persona, lo ripeto, da poco raggiunta da una richiesta di rinvio a giudizio insieme a Giuliana Frattura per ragioni di interferenze in questioni giudiziarie. Ebbene, la parte lesa questore Pozzo ha realmente interferito nell'indagine sulla Biocom. E non lo dico io, lo dicono i suoi più stretti collaboratori, sotto interrogatorio. È il 22 gennaio 2014. Il PM Nicola D'Angelo interroga Francesco Lagrasta, dirigente della Digos all'Epoca dei Fatti. Lagrasta riferisce testualmente Il questore mi disse che il nostro ufficio aveva un organico che non consentiva di fare indagini complesse per cui sarebbe stato opportuno passare la Biocom alla squadra mobile. E il 24 gennaio 2014 il PM Nicola D'Angelo interroga Diego Buso, primo dirigente della questura di Campobasso. E Buso dichiara Il questore ribadì che quella tipologia di attività e in genere quella sulla pubblica amministrazione andava svolta dalla squadra mobile sulla base di una circolare e di un richiamo fatto ai questori dal capo della polizia. Ma la circolare citata dal questore dice l'esatto contrario. Questa è su internet. Circolare, se ve lo volete segnare, del capo della polizia del 23 gennaio 2003. Sentite cosa dice. Per quanto attiene al quadro delle competenze della sezione investigativa, si evidenzia che le DIGOS devono continuare a svolgere attività di investigazione preventiva e giudiziaria in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Qualora gli stessi, per gravità e risonanza, possano incidere sulla credibilità e irregolare funzionamento delle istituzioni. Sempre, secondo la circolare del Ministero e anche altre a seguire, erano destinate alla squadra mobile le indagini politiche di poco conto e in particolare quelle di nessun rilievo. E allora, la domanda che mi pongo è la seguente. Il PM Fabio Papa ha aperto un'indagine sul questore per motivi di ritorzione, per mia istigazione o perché semplicemente le circostanze lo richiedevano? Allora, e concludo, a tutt'oggi non ho ricevuto alcuna richiesta di rinvio a giudizio. L'ultima notizia di cui sono in possesso è che il procuratore Drago di Bari decise di riaprire le indagini facendosi consegnare le utenze telefoniche dei presunti commensali. L'esito degli accertamenti chiesti da noi, badate bene, da noi, non le chiacchiere. Abbiamo chiesto gli accertamenti tecnici. L'esito, dicevo, non lo conosco. Ma se è vero che mi arriverà una richiesta di rinvio a giudizio, posso solo pensare questo. Due punti. Quando a raccontare balle sono i cittadini comuni, forse è più facile per un procuratore archiviare, non essendo possibile ricostruire un reato in assenza della data in cui si sarebbe consumato, e di prove che vadano oltre la parola del denunciante confermata dal suo amico. Non c'è nessun'altra prova. Nessuna. Trattandosi, invece, di un presidente di regione le cui gesta affaristiche e menzognere a Bari non sono note, immagino che la cosa più semplice da fare, ripeto, sempre se è vero che mi arriverà questa richiesta, sia quella di attendere l'intervento di un giudice terzo, cioè il GUP. Ad ogni modo, sono certa che davanti al GUP queste accuse saranno smontate una per una e archiviate. Ma fateci caso, e ho finito, ma mi voglio alzare. Ogni volta che Frattura è in difficoltà per le sue malefatte, convoca la stampa per parlare di Manuela Petescia, di Fabio Papa e di Tele Molise. Per esempio, chiamato in Consiglio regionale a rispondere sugli arresti dell'assessore Scarabbeo, Frattura a letto, inventandola di sana pianta, e anche questo episodio è stato denunciato, un'intercettazione tra me e Fabio Papa mai avvenuta e mai trascritta. Ma di esempi ne potrei fare a decine, negli ultimi due anni e mezzo. A partire da Giovanni Minicozzi, che sbuggiardò il Presidente e il Consiglio regionale sulle indennità dei consiglieri regionali aumentate. E le hanno aumentate il giorno dopo che si sono stanziati alla Regione. Di esempi, dicevo, ne potrei fare tanti, ma non vi tedio. Però arrivo ad oggi, quando Paolo Di Laura Frattura, chiamato a rispondere sullo scandalo nazionale della sua villa al mare, si procura, e non si sa come, la presunta richiesta di rinvio a giudizio promossa dalla sua denuncia schizofrenica, e manda al popolo molisano, quindi si procura questa indagine, questa richiesta di rinvio a giudizio, e manda in conferenza stampa al popolo molisano, già ampiamente stuprato dalle sue menzogne, un messaggio che somiglia vagamente a questo. Due punti. Seppure fossi indagato, io, Frattura, e seppure la mia azione politica e amministrativa fosse deludente, non fa nulla, perché il criminale di questa Regione è Emanuela Petescia. Ho finito e resto a disposizione per qualsiasi domanda. Tra l'altro è a disposizione per le vostre domande l'avvocato Arturo Messere, che è anche l'avvocato di Fabio Papa.